Non c'è la firma, ma gli accordi sarebbero ormai tutti in via di definizione. Mancherebbero di fatto solo i dettagli prima di procedere all'ufficialità, ma con ogni probabilità sarà Francesco Farina il prossimo aderatore del Barletta. La certezza assoluta in questo momento è che non ci sarà continuità rispetto al recente passato, ossia con Massimiliano Tangorra. Nell'ultima stagione Farina ha guidato in serie D il vasto Girardi, società a quanto pare che avrebbe voluto confermarlo in panchina. Salvo clamorossi colpi di scena invece le strade si divideranno proprio per la voglia del tecnico di sposare il progetto Biancorosso. Farina ha vinto l'eccellenza di Puglia nella stagione 2016-2017 con il Cerignola. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato anche alla prossima guida tecnica degli Ufantini, una suggestione così sembra molto difficile allo stato attuale delle cose, un suo ritorno al timone dei gialloblu. Il Barletta dunque avrà un nuovo adenatore per il prossimo campionato di eccellenza. Diverse invece le società che hanno deciso sin da ora di dare continuità alla guida tecnica. La Vigortrani ad esempio ha confermato ufficialmente Angelo Sisto, Lugento ha fatto altrettanto con Mimmo Oliva. Entrambi gli adenatori sono reduci da una stagione estremamente positiva, quello dei Salentini addirittura alla guida di una matricola. E ancora, resta Beppe Iannone all'audace Barletta, molto probabile la conferma di Cristian Carbone al timo Orta Nuova, molto difficile, anzi praticamente da escludere, quella di Gigi Di Simone all'Unione Calcio Biceglie. Per quanto riguarda le neopromosse, invece, fiducia ribadita dalla United Sly Trania Claudio De Luca, scontata quella di Pietro Sportillo al Racale, in attesa di approdare in eccellenza con la formula del ripescaggio. Infine il Manfredonia sta già pensando all'eventuale sostituto di Pino Lopolito vicino all'addio con il club Sipontino. Il grande obiettivo dei garganici, inutile nasconderlo, è quello di affidare la panchina Massimiliano Olivieri, reduce dall'esperienza in serie di con il Brindisi.